grande abbiamo il termicone guarda che figato adesso guarda quanto saliamo questo è un 3 metri al secondo come dico questo suono che è la velocità verticale per un pilota è come moto alla si fa dei pendolamenti e si va a finire sopra la vela vedi? la vela è sotto di noi la vela è sotto di me la vela è sotto di me Ahah, bravo! Ho fatto il top! Super Giorgio, porca zotta che volate che abbiamo fatto!